Anche a Livorno i sindacati CGL, Cisle e Will scendono in piazza davanti alla prefettura insieme ai lavoratori marittimi, professionisti imbarcati su navi e altri mezzi nautici. La mobilitazione è la risposta alla misura contenuta nella legge di bilancio variata dal governo, misura che prevede la decurtazione dell'indennità di malattia per questi lavoratori, che dal 75% dello stipendio passa al 60%. È l'ennesimo smacco del governo che mette le mani in tasca ai lavoratori e lavoratrici, stavolta tocca al settore marittimo, decurtazione dell'indennità di malattia dal 75% portata al 60%, oggi è l'inizio di una protesta che ci vedrà impegnati credo per lungo periodo.